Maria Angela Danzi, candidata capolista nella circoscrizione Nord-Ovest per il Movimento 5 Stelle. È un secondo mandato quello a cui lei aspira in questo momento. Le candidature sono state affrontate in questo Paese dai leader dei partiti. Questo penalizzerà in qualche modo le elezioni? Noi abbiamo fatto una scelta diversa, rispettosa dei principi di democrazia e di rappresentanza. Noi riteniamo che questo Paese, l'Italia, sia uno dei pochi Paesi che fa questa scelta che viola il principio della rappresentanza. Nessuno, né Tagliani né il Presidente Meloni, andranno a rappresentare i cittadini nell'Unione Europea, una delegittimazione delle istituzioni e qualcosa che scoraggia i cittadini. Noi abbiamo voluto fare una scelta diversa mettendo capolista le persone che possono rappresentare gli interessi della collettività e che ci mettono la faccia e renderanno conto ai cittadini così come sto facendo io. È difficile comprendere il lavoro di un deputato al Parlamento europeo. In questo momento si parla molto di queste candidature e poco di programmi. Cosa pensa lei di questo? Penso sempre che soprattutto questo centrodestra ama buttare la palla in tribuna, fare parlare di altro e non entrare nel merito delle scelte che cambieranno la vita del pianeta in un senso o in un altro. Io spero in positivo contribuendo all'abbassamento dei livelli di inquinamento e soprattutto indirizzando tutti noi a modificare il nostro stile di vita per uno stile più sostenibile che curi soprattutto la nostra salute. Sono troppo le patologie che dipendono dall'inquinamento, dalla cattiva alimentazione, dalla mancanza di sicurezza alimentare. La presenza sui territori dei deputati del Parlamento europeo è una cosa rarissima. Li conosciamo e li vediamo solamente nel frangente delle campagne elettorali. Questo però non è il suo caso perché noi l'abbiamo vista impegnata su questo territorio in diverse occasioni, sulla diga per figli e sul depuratore. Che cosa ha motivato il suo interesse in questi due argomenti nell'ordine? Non lasciare da soli i cittadini perché quando una comunità di cittadini, come diceva Leghi, comincia a non votare, a essere lontana dalle istituzioni, manifesta collettivamente un disagio o un'istanza, secondo me è quello il momento della politica nobile, rappresentare la voce dei cittadini. E questa voce era coerente. Io penso al depuratore con le nuove direttive europee che entreranno in vigore nei prossimi mesi che dicono basta a depuratori invasivi, basta a depuratori che consumano energia e che non recuperano l'acqua in un momento di siccità, basta sacrificare posti turistici come questi e danneggiare l'economia soprattutto. Io immagino che chi vedrà il cammino del depuratore in mezzo al porto non verrà ad ancorare qui a Chiavari e quindi ad arricchire l'economia. Quindi il discorso sui miei colleghi fa il paio con quello che ci siamo detti prima. A me dispiace per esempio che l'onorevole Campomenosi, della Lega, che appartiene comunque, e rappresenta istanze diverse delle mie, non sempre, non sia candidato e sia stato sacrificato sull'altare del populismo più becero. Quanto è importante che noi italiani ci ricordiamo che l'Europa siamo, anche noi in questo momento pare un terzo incomodo? Ce lo dobbiamo ricordare e non a caso noi rivendichiamo un'Europa di pace per la pace, come l'Europa l'è riuscita a garantire negli 80 anni. Dimentichiamo che avvenivamo da due guerre mondiali nel prima parte del secolo 900. Ora sono 80 anni di pace. Secondo me, come diceva Davide Sassoli, ampliare questo cantiere europeo, inserire la politica estera come politica condivisa, può essere uno strumento. Grazie. Grazie.